segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te torno da te alan e torno ovviamente ad antonio padellaro ma vedo collegato sono molto contenta che sia possibile il collegamento il collegamento con lorenzo cremonesi super inviato del corriere della sera e credo lorenzo che tu stai andando a chiev dimmi se sbaglio sì sì tra l'altro mi avete detto che mi avete chiamato tra mezz'ora e quindi io sono in spostamento storie sono arrivati o se guardate fuori dal finestrino sono entrato in chiev proprio pochi minuti fa sono arrivato adesso in città perché sono stato in questo ultimo mese da oltre un mese nel donbass ero avdivca seguire la battaglia perduta dagli ucraini nel donbass punto avdivca e prima ero kharkiv che la seconda città del paese che i frecchio e della città che era considerata più filorussa oggi non è affatto così ma quindi mi sono seguito un po i fronti della della guerra per ricostruire e ricordare quello che veniva due anni fa e quello che sta avvenendo adesso e rispetto a quello che succedeva due anni fa cosa è cambiato intanto proprio nella percezione di chi lì ci vive ti chiedo lorenzo ma allora vediamola con la prospettiva due anni fa fridman ha fatto bene a ricordarlo due anni fa sembrava che la città dovesse cadere da un momento all'altro c'erano i carri armati qui qui che stavano entrando a chiev abbiamo visto la resistenza qui in queste strade dove siamo adesso fermi c'erano le barricate chiev che è una città di 4 milioni oggi sono 3 milioni e 8 3 milioni e mezzo quindi è ritornato a vivere allora era vuota c'erano meno di 2 milioni carchi erano 2 milioni quando ci andai era a fin del mese c'erano 300 mila persone oggi ce n'è un milione 3 quindi attenzione il il paese ha resistito questo continuano a dirlo tutti ha tenuto ha sbalordito il mondo e poi si è organizzato e ottenuto gli aiuti dell'occidente l'europa sgangherata divisa burocratica polemica tutto quello che voi volete ha contribuito alla 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 tenuta oggi la germania ha triplicato gli aiuti che che all'inizio non voleva assolutamente dare ci sono grandi difficoltà ora parliamo dell'attuale perché tutto quello è avvenuto allora che cosa sta capitando adesso primo gli ucraini vogliono continuare a combattere cioè la cosa che io ora ho raccolto tra questi soldati smorfiati arrabbiati per il fatto che zelevski ha cambiato il maggiore molto polemici con loro presidente stanchi perché sostanzialmente quei 400 mila quei 500 mila molti di loro volontari della prima ora sono ancora gli stessi quelli che si mobilitarono stanchi proprio fisicamente dici oltre che psicologicamente guardate l'altro giorno ero nelle trincee tra bakhmut e avdivca ero con dei con una con degli uomini della della terza brigata che questa brigata specializzata molto di corpi scelti che era stata mandata proprio per aiutare l'evacuazione di avdivca e c'era un comandante che mi ha detto io ho cominciato questa guerra era eravamo circa 150 amici loro venivano da una da una zona attorno a leopoli oggi cioè quelli che non ci sono più tramorti tanti e feriti quindi che non sono più al fronte perché sono rimasti feriti oggi siamo rimasti il 20 per cento pensate questo pensate questo tra l'altro lui mi ha nominato un altro problema che di cui si parla poco la post traumatic syndrome che avviene sempre nelle guerre e l'abbiamo visto in ira cioè danni psicologici gente che ha bisogno di essere ricoverata letteralmente più che altro per disogni mentali problema di di famiglie divise qui c'è un problema demografico profondissimo abbiamo scritto sì diciamo che non è non è un tema che puoi ribaltare in automatico sulla russia perché lì per esempio il problema dell'arruolamento non c'è cioè è un altro tipo di arruolamento e i numeri sono ben diversi quindi anche questa è una questione no ed è ed è sintomatico della stanchezza del fatto che ci sono grosse accuse per la corruzione per esempio cosa di cui si parlava poco il primo anno e cioè il fatto che negli accenti di addestramento sono girate bustarelle di migliaia l'altro giorno delle foto di un centro di reclutamento se non erro vicino a odessa c'erano pacchi di dollari migliaia migliaia di centinaia miliardi di dollari pagati quindi tutto questo attualmente con però da qui a dire che il paese sta sta perdendo attenzione il prese è in difficoltà il prese è in difficoltà allora aspetta ti fermo sulla difficoltà aggiungerei solo un'ultima cosa quello che che qui dicono la variabile che non dipende da noi sono gli aiuti avdica è caduta perché mancavano munizioni un proiettile da 155 mili e quindi quello che lo dicono se l'occidente continuerà a aiutarci come ha fatto il primo anno noi teniamo allora arrivo alessio voglio sentire però antonio padellaro perché antonio questo allora Grazie a tutti.